Siamo entrati quindi nel mese di dicembre e quindi Dolomiti Turismo ci porta alla scoperta dei comprensori sciistici. Un inverno quindi alle porte, ben ritrovati alla visione d'ascolto di questa rubrica settimanale che quest'oggi ospita Giuliana Boscheri, consulente marketing di Tofana Freccia nel Cielo. Innanzitutto ben ritrovata Boscheri e grazie di aver accettato il nostro invito. Ringrazio voi per avermi invitata. Allora, Tofana Freccia nel Cielo, ovvero Cortina d'Ampezzo, lo sci, una breve panoramica sul vostro comprensorio, ovvero quante sono le piste, quanti i chilometri per poi venire alle offerte in un secondo momento, Boscheri. Il nostro comprensorio Tofana Freccia nel Cielo è il comprensorio più vicino al centro di Cortina e ha 47 chilometri di piste, 13 impianti di risalita e in inverno ha il comprensorio di Ravalles che ti porta fino a 2770 metri, fino a Busto Fana e diciamo che la particolarità del comprensorio di Ravalles è proprio quello di avere della neve naturale. e questo ovviamente sciare su neve naturale è molto bello. Abbiamo questa bellissima pista che si chiama Forcella Rossa che è amata particolarmente dall'associazione All Blacks che la fanno tantissime volte durante l'inverno e è una nera ovviamente, molto da professionisti, da sciatori professionisti, è molto impegnativa. Abbiamo Pian Ravalles, abbiamo Busto Fana, abbiamo una serie di interessanti piste alla Cacciatori, tutte su al comprensorio di Ravalles. Ovviamente partendo da Cortina noi abbiamo ovviamente la nuova cabinovia che è stata inaugurata nel 2020 che ti porta fino a Col de Rousset, 1678 metri e da lì partono queste due meravigliose piste che è la pista A e la pista B. La pista A è anche questa una nera e la pista B è una pista adatta a tutti che va nel bosco e poi con la pista Stries arrivi fino di nuovo al centro di Cortina. Questa è l'unica pista che ti fa arrivare di nuovo al centro di Cortina. Ecco, questo per quanto riguarda le piste. Ma il comprensorio di Tofana Freccia nel cielo è anche noto moltissimo anche per i suoi ristoranti. E noi abbiamo il ristorante Col de Rousset ovviamente quando si arriva con la cabinovia e il Masi Wine Bar che ovviamente uno sopra e uno sotto sono due ristoranti con una grossa capienza dove si possono degustare questi piatti della tradizione ampezzana ma anche piatti tipici della zona montana e anche le novità che ogni anno ovviamente Luca a Sudiro ci riserva in quel contesto. Invece per quanto riguarda l'altro ristorante Capanna Ravalles che è in cima questo è noto ovviamente per essere un bellissimo ristorante circolare con dei finestroni dove vedi giù tutta Cortina e con un'ampia terrazza che ormai negli ultimi dieci anni durante l'inverno la gente mangia anche fuori. Dobbiamo dire che diciamo da una parte purtroppo ma dall'altra la bellezza di questo sole che ti riscalda e tu puoi mangiare la pizza è una delle pizzerie più alte delle Dolomiti e poi anche una serie di piatti ovviamente della tradizione, gli hamburger, la tartare di fassona ci sono una serie di piatti che sono molto interessanti. Boscari ci ha fatto veramente venire appetito credo non soltanto dal punto di vista gastronomico ma anche dal punto di vista dello sci quindi sportivo. Ora nel momento in cui stiamo registrando questa trasmissione non c'è mi pare una data definita di apertura diciamo ponte dell'Immacolata o comunque l'inizio delle vacanze di Natale si dovrebbe chiaramente poter sciare nel comprensorio di Topana Frecce nel cielo no? Sicuramente è stata prevista una data adesso dipende sempre dalla neve permettendo però confidiamo di poter aprire per l'Immacolata. Confidiamo perché ovviamente la neve per noi è importante essendo il nostro comprensorio è molto ripido e molto roccioso abbiamo una necessità maggiore rispetto agli altri anche sul discorso dei cannoni da neve noi ovviamente nella zona di Ravalle è tutta neve naturale per cui dobbiamo confidare solo dal cielo invece la pista A e la pista B stiamo adesso innevando pertanto contiamo di aprire il più presto possibile. Certo, innevamento naturale quindi so che in autunno avete organizzato un importante convegno con uno studio sul permafrost ora ci vorrebbe chiaramente del tempo per spiegare può sintetizzarci in maniera il più breve e significativa possibile in cosa consiste questo progetto che state portando avanti i poschieri? Il progetto è stato realizzato quest'estate è un progetto permafrost perché noi avevamo un problema, abbiamo rinnovato la seggiovia nel 2021 che porta fino a Bustofana e a monte della seggiovia è stata fissata sul permafrost, è stata posizionata sul permafrost e ovviamente ci sono stati dei piccoli cedimenti, questo ovviamente il Presidente si è attivato immediatamente essendo lui un ingegnere a capire qual era la problematica, ha riunito fior fior di ingegneri e di studiosi all'Università di Bolzano, l'Università di Padova, l'Eurac di Bolzano e una serie di aziende che si occupano di refrigeramento e di energia solare e è riuscito a riconvertire il sole in una possibilità di raffreddare il terreno e fare in modo che questo permafrost rimanga al suo livello, questo ovviamente con dei pannelli solari sopra la stazione che da una parte con un ciclo frigorifero raffreddano quello che è il permafrost ma parallelamente riscaldano anche l'interno della stazione per cui abbiamo creato un sistema di sostenibilità molto interessante che ovviamente adesso è uno studio che stanno affrontando anche altri comprensori perché questo è stato veramente un progetto innovativo e di grande sostenibilità. Quindi sostenibilità proiettando verso il futuro, per il futuro prossimo invece tornando all'imminente stagione quali novità ha in servo Tofana Freccia nel cielo per gli sciatori ma non solo? Allora la novità più interessante per il momento è che noi all'interno della nostra stazione di Freccia nel cielo proprio alla base della cabinovia della Freccia nel cielo abbiamo un noleggio che abbiamo da anni e vicino al noleggio abbiamo costruito gli armadietti dove lo sciatore può depositare i propri sci e i propri scarponi e questo è interessante perché ovviamente è anche questo se vogliamo per certi aspetti un progetto di sostenibilità perché se la persona deposita gli sci e gli scarponi praticamente a 200 metri dal centro di cortina vuol dire che non utilizza la macchina per venire a sciare oppure come dire viene a sciare con le scarpe da ginnastica invece che con gli scarponi da sci facendo anche meno fatica questo verrà aperto adesso con l'apertura della nostra stagione e lì ovviamente ci sarà la possibilità di avere un deposito per due sci per due paia di sci e per quattro paia di sci e questo verrà adesso pubblicizzato con dei comunicati stampa ma insomma questa è una bellissima novità che è stata fatta ovviamente abbiamo allargato di nuovo la possibilità di avere ulteriore personale da fuori con ulteriori due alloggi per il personale che già l'anno scorso avevamo fatto 11 alloggi adesso ne abbiamo aggiunti altri due abbiamo fatto tutti i nuovi uffici ecco queste sono le novità ce n'è un'altra in serbo ma per il momento non posso parlarne perché è ancora in fase di perfezionamento a livello di eventi per la stagione invernale vedremo avremo la possibilità di vedere l'alba nel vostro comprensorio sicuramente quest'anno sono state definite tre date il 10 gennaio il 13 febbraio e il 9 di marzo che sono tre date dove ci sarà la possibilità di vedere l'alba a Ravalles ovviamente compresa con la colazione e la possibilità di sciare già alle 7 e mezza del mattino e questo è una cosa che gli appassionati, i valligiani, tutta la gente che sta nei dintorni ma anche i turisti apprezzano moltissimo anche a scapito di una grandissima levataccia che si fanno sempre poi ci sono le astrocene su prenotazione c'è sicuramente la serata di Capodanno che viene fatta poi quest'anno abbiamo previsto anche una festa di chiusura al 6 di aprile perché chiuderemo al 7 di aprile ma il 6 faremo un grandissimo apreschi a Ravalles con musica per cui anche questo diciamo poi ovviamente ci sono in cantiere altri eventi ma per il momento non sono perfezionati però questi sono eventi che per Tofana, le albe, le astrocene sono importantissimi ovviamente poi siamo sempre disponibili per le prenotazioni dei matrimoni quest'estate ne abbiamo fatti notevole anche d'inverno c'è questa possibilità e poi ovviamente lo sci che prevale su tutto perché ovviamente sciare nel nostro comprensorio è veramente interessante e le nostre piste sono battute e dobbiamo ringraziare i nostri nevatori ma anche i gattisti che fanno sempre un lavoro egregio e il capo servizio che è un appassionato di neve pertanto Roberto è sempre attento che la neve sia perfetta e pertanto insomma diciamo che offriamo tutta una serie di opportunità che credo che sia i valigiani che i turisti apprezzeranno Dunque Boscheri ha già risposto in parte alla domanda che volevo farle la data di chiusura ha detto quindi inizio aprile quindi anche nell'ottica di allungamento delle stagioni per allungare le stagioni la classica destagionalizzazione e mettere in pratica questo anche a beneficio delle strutture ricettive della conca ecco riguardo i prezzi Boscheri degli ski pass dei ticket si è in linea con il Dolomiti Superski immagino Identici perché noi siamo associati al Dolomiti Superski per cui i prezzi sono quelli che si trovano online tra il resto chi diciamo fa l'online 48 ore prima ha il 5% di sconto per cui diciamo che questo ovviamente non dipende da noi dipende dal Dolomiti Superski che sono già stati stabiliti i prezzi ovviamente per noi invece per quanto riguarda i pedoni per le persone che vanno a piedi a Ravalles che ce ne sono sempre tantissime o a Col Drusche le tariffe che c'erano quest'estate sono rimaste invariate anche quest'inverno per cui le persone possono salire andare a pranzo andare a farsi una piccola passeggiata c'è sempre anche l'osservatorio astronomico che viene aperto anche quest'anno periodicamente dove le persone possono andare a visitare l'osservatorio astronomico e le astrocene si chiamano proprio così perché sono sempre in abbinamento con la possibilità della visita guidata all'osservatorio astronomico quindi tante possibilità non soltanto uscito fanno apprezzare il cielo Boscheri la ringraziamo molto per essere intervenuta attendiamo quindi gli approfondimenti i dettagli sulle novità che ci ha anticipato in questa puntata auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Tofana per il cielo grazie Giuliana Boscheri ringrazio voi e ci auguriamo un buon inverno e a voi tutti gentili telespettatori e telespettatrici l'appuntamento rinnovato alla settimana prossima per Dolomiti Turismo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti